Musica Dall'istituzione alle scuole Sogno ha fatto sentire la sua voce contro la violenza sulle donne in tribunale alla sala dell'accoglienza per tutte le vittime di abusi in piazza flash mob delle studentesse. Musica Dura presa di posizione dell'automobile club di Sondrio nei confronti della rotonda che dovrebbe sorgere lungo la tangenziale sondriese all'altezza di via Europa. Il PD chiede maggior ascolto del territorio. Musica Volontari pronti a dare il proprio contributo, domani mattina la colletta alimentare sarà possibile aderire in 100 punti vendita di tutta la provincia di Sondrio acquistando beni per famiglie in difficoltà e associazioni. Buonasera, buonasera a tutti, 25 novembre, questa sera in apertura parliamo della giornata contro la violenza sulle donne in tribunale a Sondrio. Da oggi uno spazio in più per le vittime vulnerabili. In occasione della giornata internazionale contro le violenze sulle donne è stata infatti inaugurata la stanza dell'accoglienza, spazio protetto per tutte le vittime di abusi. Da questa mattina anche il tribunale di Sondrio ha una stanza dell'accoglienza, logo protetto di ascolto per tutte le vittime di maltrattamenti, violenze e abusi. È una stanza che accoglierà appunto minori, donne, anche uomini maltrattati, persone comunque che hanno subito abusi, maltrattamenti e violenze. È una stanza che noi abbiamo definito anche dell'ascolto perché potrà essere utilizzata dai magistrati sia civili che penali, dai sostituti procuratori di Sondrio e anche da noi avvocati e avvocate con i nostri clienti per ascoltare le persone fragili. Abbiamo pensato a questa iniziativa, a questo progetto per dare un luogo protetto a tutte le vittime vulnerabili che si trovano a dover affrontare un processo per cui hanno la necessità di avere un luogo riservato, di stare distanti dal cosiddetto reo e comunque da tutte le altre parti del processo o comunque una stanza destinata appunto all'ascolto di queste persone che hanno la necessità di trovarsi anche in un luogo adatto alla situazione che si trovano a dover affrontare. Quest'aula che vedete alle mie spalle è stata arredata da ditte valtellinesi che in maniera gratuita ci hanno appunto donato tutto l'arredo che vedete all'interno di questa stanza così come le pareti sono state dipinte da... Sembrano atti simbolici ma sono atti significativi. L'anno scorso la panchina rossa, oggi dedicare una parte di un'aula di udienza ai soggetti deboli attraverso la preparazione di una stanza dai colori sobri ma accoglienti e che dà il senso dell'attenzione del Tribunale per tutti i soggetti deboli che siano uomini, donne, adulti o minori, che qua si possono sentire accolti, ascoltati, protetti e giustamente valutati nelle loro aspettative. Il Tribunale c'è e anche attraverso questo atto e questo gesto simbolico di dedicati, una aula proprio ai soggetti deboli vuole rappresentare questo nostro intendimento. La Valtellina non è un territorio che è diverso rispetto alle altre parti dello Stato italiano. Ne vediamo sotto il profilo sia dal punto di vista del diritto civile come diritto di famiglia e sia dal punto di vista penale per le ricadute sia per inottemperanze di ordine economico e sia, ahimè, anche come atti contro la persona. I numeri sono i numeri della media nazionale e quindi anche in Valtellina la soglia deve essere sempre elevata. Quello che noi raccomandiamo è quando ci sono episodi di questa natura rifassi subito parte di di gente sapendo che le istituzioni sono presenti per evitare poi che si giunga a situazioni più gravi e addirittura ai processi. E oggi le studentesse del Polo Liceale Città di Sondrio hanno scelto la danza della libertà per dare vita al flash mob messo in scena in Piazza Campelli, un'occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Anche quest'anno il Polo Liceale Città di Sondrio insieme all'Associazione Donne o Argonauti ha messo in scena nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne un flash mob di sensibilizzazione a cui hanno partecipato studentesse di tutte le classi questo pomeriggio in Piazza Campello. Abbiamo voluto rappresentare la danza per la libertà che le donne fanno un po' in tutto il mondo in questo periodo specialmente in Iran e le ragazze hanno inscenato questa piccola danza e poi l'idea di fare rete per organizzarsi e mobilitare la società contro la violenza sulle donne. Ci siamo ispirati a un quadro di Magritte dove le persone sono incappucciate questo non è il vero e proprio velo anche se ovviamente c'è un riferimento al problema dell'Iran ma è il cappuccio che nasconde la vera identità degli esseri umani in particolare le donne che devono essere riconosciute per quello che sono e soprattutto essere libere. Ogni anno il professor Moiser con la collaborazione della professoressa Londoni e da quest'anno anche della professoressa Montani organizzano un flash mob e una sensibilizzazione del problema che è comunque un tema, quello della parità di genere e della prevenzione della violenza contro le donne che è un fil rouge di tutto il polo liceale che ha una percentuale di studentesse decisamente alta. Ora parliamo di opere pubbliche, dura presa di posizione dell'Automobile Club di Sondrio nei confronti della rotonda che dovrebbe sorgere lungo la tangenziale sondriese all'altezza di via Europa e Servizio. Semmaforo rosso, la soluzione illustrata mercoledì a Palazzo Muzio per mandare in archivio il passaggio a livello del Trippi non convince l'Automobile Club di Sondrio. I motivi sono stati illustrati nella conferenza stampa tenuta dal presidente Andrea Mariani assieme al direttore Roberto Conforti. Siamo fortemente contrari alla creazione di ulteriori ostacoli alla fluidità della viabilità. In questa proposta è inserita una rotonda in mezzo a una tangenziale cui sinceramente utilità dal punto di vista viabilistico oggi non riusciamo tanto bene a comprenderlo ma certamente abbiamo discusso per mesi della soluzione del problema della rotonda della sassella, ne togliamo una e adesso ne mettiamo un'altra. Mettere ostacoli alla fluidità del traffico vuol dire anche peggiorare la qualità dell'ambiente e questo è l'altro aspetto che secondo noi va in contrasto nella logica dell'opera rispetto a quelle che sono le milestone del dossier Olimpiedi che ci è stato affidato. Certamente l'opera va fatta, certamente quel passaggio a livello va tolto però siamo assolutamente convinti che non si rimedia ad un errore con un altro errore. Il progetto originario della tangenziale di Sondrio prevedeva il suo prolungamento fino a Piatè da località Fiorenza con i costi attuali spinti in alto dal caro Materie Prime un obiettivo praticamente raggiungibile. Sull'ipotesi cavalcavia l'automobile club di Sondrio chiede di fare uno sforzo ulteriore di allungarlo di circa 200 metri in direzione Tirano. Comprendiamo benissimo che non ci sono le risorse per fare quello che più o meno tutti hanno ovviamente dichiarato più volte che l'opera completa sarebbe un'altra e ben diversa. Capiamo che non ci sono in questo momento i fondi per farla però siamo assolutamente convinti che ad esempio un allungamento di qualche centinaio di metri di quel cavalcavia o quantomeno del suo svincolo in direzione Tirano potrebbe essere utile a risolvere una serie di problematiche importanti. Certamente se permane quella rotonda, quella rotonda sarà oggetto di congestione non solo della Statale 38 ma anche di tutto lo schema della viabilità locale. Sul tema tangenziale Sud, nuovo intervento del PD, coinvolgere vuol dire venire incontro alle richieste e alle esigenze di chi vive il territorio si legge nel comunicato diffuso dal segretario provinciale Michele Giannotti vuol dire trovare un punto di incontro a vantaggio di tutta la comunità vuol dire contribuire alla realizzazione di infrastrutture sostenibili che siano in armonia con l'ambiente e lo splendido paesaggio dei nostri valli non vuol dire far finta di ascoltare per poi imporre scelte già decise su tavoli politici questo progetto, aggiunge Giannotti, presenta numerose criticità sia per l'impatto devastante che avrebbe sul territorio sia per il fatto che termina in un punto in cui il raccordo con la strada esistente creerà non pochi problemi alla viabilità del comune di montagna. Ubriaco alla guida dopo un incidente ha preso a calci l'auto della polizia è scattata la denuncia per il 28enne fermato dalla pattuglia della stradale di Mese ma non è stato l'unico intervento del distaccamento della polizia in Valchiavenna calci all'auto della polizia da parte di un giovane e un ubriaco alla guida con tasso alcolico sei volte oltre il limite di legge quella di mercoledì è stata una serata intensa per la pattuglia del distaccamento di Mese della polizia stradale di Sondrio primo intervento a menaggio per un veicolo coinvolto in un incidente stradale autonomo senza periti il conducente un 28enne dell'altolario in provincia di Como con un tasso alcolico di oltre il triplo del limite consentito ha preso a calci e danneggiato l'auto della polizia per calmarlo è stato necessario l'intervento di personale sanitario per lui denuncia per guida in stato di ebrezza e per danneggiamento aggravato di cose destinate a pubblico servizio nella stessa serata a Dubino la pattuglia di polizia stradale ha ritirato la patente e sequestrato l'auto ad un 41enne della provincia di Sondrio il suo tasso alcolico era oltre sei volte il limite consentito il distaccamento di Mese della polizia stradale nelle sole ultime due settimane di controlli ha sequestrato sostanze stupefacenti a cinque persone segnalandole per la sospensione della patente denunciato due persone per guida sotto l'effetto di stupefacenti e quattro persone per guida sotto l'effetto di alcol ha inoltre denunciato una persona per uso di patente straniera falsa ora parliamo di economia con un vegno di livello nazionale quello che si potrà seguire venerdì 2 dicembre a Sondrio sotto i riflettori il sistema bancario e il ruolo chiave svolto a favore dei territori lo sviluppo e sistema bancario due elementi interconnessi un'analisi oggettiva e scientifica del ruolo svolto dagli istituti di credito sarà fulcro del convegno di livello nazionale promosso dalla Banca Popolare di Sondrio in collaborazione con la società di consulenza di direzione aziendale Vitale Zane & Company l'appuntamento in calendario venerdì 2 dicembre con inizio alle 9.30 in Sala Fabio Besta nella sede centrale BPS grazie agli interventi dei relatori d'eccezione si farà il punto sul sistema bancario italiano nel quadro europeo momento di confronto che interpreta la necessità di riavviare il dibattito sul sistema bancario e sui principi che lo guidano l'incontro punta a valutare il presente del sistema bancario italiano nell'ambito del nuovo scenario economico nazionale e internazionale e indicare i possibili scenari futuri il convegno chiama raccolta prestigiosi studiosi della cultura bancaria finanziaria e economica del nostro paese interverranno i professori universitari di economia degli intermediari finanziari Andrea Calamanti e Rosa Coccozza l'economista e docente universitario Marco Nado l'AD dell'azienda agroalimentare Cometa 99 Giacomo Pedranzini l'ingegnere e analista finanziario Alfonso Scarano e Stefano Zamagni professore di economia politica le riflessioni conclusive affidate al consiglio delegato e direttore generale della banca Mario Alberto Pedranzini si potranno ascoltare anche le testimonianze del mondo produttivo diretta video in streaming raggiungendo il sito www.popso.it torna domani la colletta alimentare organizzata dal Banco Alimentare con il sostegno di numerosi volontari saranno 98 i punti vendita di Valtellina Valchiavenna in cui sarà possibile donare beni di prima necessità rivolti ad associazioni caritatevoli e famiglie in difficoltà fine novembre torna la colletta alimentare il 26 novembre anche quest'anno si svolgerà la 26esima edizione della colletta alimentare anche quest'anno sarà chiesto ai valtellinesi di partecipare cercando di fare un gesto concreto di aiuto a chi ha più bisogno già il periodo di pandemia non ha aiutato di sicuro le famiglie valtellinesi riscontriamo che c'è un forte aumento del bisogno della richiesta di aiuto proprio da parte delle famiglie del territorio anche quest'anno in Valtellina saranno circa una decina le associazioni che riceveranno direttamente gli alimenti raccolti e contiamo di riuscire a dare tutto quello che verrà raccolto qua magari anche verso province che hanno ancora più bisogno rispetto alla nostra di sicuro tutto il fabbisogno del territorio sarà coperto le eccedenze invece verranno riristribuite in Valtellina da Bormio fino alla Val Chiavenna ci saranno circa 98 punti vendita che parteciperanno e le associazioni coinvolte anche quest'anno daranno una grossa mano la vicinanza degli alpini a chi è nel bisogno viene da una storia secolare di solidarietà e anche quest'anno saremo presente al fianco del banco alimentare circa con 500 volontari che opereranno negli oltre 100 punti di raccolta con il nostro cappello con la penna e con un sorriso inviteremo tutti a fare un piccolo gesto per ridare speranza a chi è stato meno fortunato di noi certamente alla sera ritorneremo tutti stanchi perché è un po' il freddo sperando che non sia una giornata terribile così però torneremo anche soddisfatti sapendo ancora una volta di aver fatto il nostro dovere anche quest'anno naturalmente siamo a fianco dei volontari del banco alimentare e degli alpini sia Croce Rossa Sondio che Croce Rossa Morvenio abbiamo già vari volontari che si sono resi disponibili e che si affiancheranno agli alpini oppure copriranno alcuni punti scoperti alcuni negozi, supermercati in tutta la provincia è un appello sentito e che vi prego di accogliere purtroppo ci sono famiglie molte famiglie bisognose i numeri aumentano e quindi un piccolo aiuto come può essere l'acquisto di un litro di latte o di un pacco di pasta cambia la vita di una famiglia quindi vi invito ad essere veramente numerosi e solidali Bene, con questo è davvero tutto vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito la nostra web tv la nostra presenza sui principali social vi auguro una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti